Buongiorno squadra, questo video è una mini masterclass, se così si può chiamare, su come vendere su Etsy In quest'ultimo periodo si parla molto di Etsy, molti la snobbano, altri invece la amano Sinceramente sono a metà, anche perché Etsy se è usata bene può essere anche un altro modo di distribuzione Cioè tu puoi vendere sia sul tuo store, sia su Amazon, sia su Ebay, sia su Etsy Quindi se ti arrivano clienti, bene Usare Etsy è un modo sbagliato, semplicemente mettendo un prodotto fatto a caso così su Etsy e sperando, pregando che ti arrivano clienti Non funziona così, devi portare, devi saper vendere anche su Etsy e appunto promuovere il tuo prodotto, saper vendere e così via E fare le cose per bene Quindi in questo video andremo a vedere esattamente come trovare il prodotto, come fare le foto e i video estremamente importanti Dovevo capire perché Come creare lo store e listare il prodotto su Etsy Come ottimizzare la SEO e come promuovere i tuoi prodotti In 5 step e quindi molto semplici ma allo stesso tempo anche molto importanti da fare Qui sotto trovi i capitoli in modo che è più semplice vedere il video per te E in più ti ricordo che puoi entrare sempre nel mio gruppo Telegram, siamo quasi 500 membri Per chiedere tutto quello che vuoi nel mio gruppo Facebook e nella mia area membri C'è tutti i link in descrizione Cominciamo Ora il primo step è trovare appunto il prodotto Etsy è una piattaforma particolare Perché non è come Ebay, in teoria si può confondere con Ebay o con Amazon In realtà non è così perché Etsy si è creata appunto una sua categoria Si è differenzia rispetto a queste altre piattaforme Perché appunto su Etsy i prodotti che vanno di più ad esempio sono Il fatto a mano va benissimo Va fortissimo il fatto a mano Il print on demand Quindi fare cose particolari con design particolari Il vintage Etsy è nata come piattaforma per vendere vintage Infatti fa fortissimo il vintage L'arredo casa E oggettistiche in particolare Tutti appunto oggetti di arredo casa Sopra mobili Se sono particolari vanno forti su Etsy Abbigliamento particolare che sia vintage Oppure appunto abbigliamento in print on demand Magliettine con un logo Magliettine con un certo design E così via Anche cappellini, zaini Comunque tutto abbigliamento in print on demand Fa fortissimo su Etsy E poi si vendono anche prodotti digitali Ad esempio non so Prodotti digitali molto semplici Template, intro, grafiche, icone Tutte queste cose del genere Oppure preset vanno forte e così via In poche parole la migliore cosa che puoi fare È andare direttamente su Etsy Guardare le categorie E vedere quali prodotti vanno di più su Etsy Quale categorie sono appunto ammesse Scegli una categoria Quella che ti piace di più Quella appunto dove pensi di essere più bravo Che capisci meglio La scegli E trovi un prodotto che puoi vendere Ci sono tre tipologie di prodotti che puoi vendere Il primo è vendere un prodotto nuovo Quindi che non c'è ancora su Etsy Però per cui c'è domanda C'è domanda Però le persone non riescono a troverlo su Etsy In quel caso è davvero spacca quel prodotto Perché tu vendi qualcosa che non c'è Sei l'unico che la vende Quindi potresti anche farci un bel po' di soldi Sempre se c'è domanda La seconda tipologia di prodotti che puoi vendere È un prodotto in cui c'è poca competizione Tu in pratica fai un prodotto Batti la competizione in pratica Metti foto migliori E appunto cerchi di battere la competizione Che è quella minima competizione che c'è La terza tipologia è un prodotto Che ha un po' di competizione Una competizione moderata E tu semplicemente vendi un prodotto Che è dieci volte meglio rispetto a questa competizione Quindi un prezzo più basso Il prodotto di migliore qualità Spedizione più veloci Le foto sono fatte meglio È tutto ottimizzato meglio Quindi vendi Dai un'esperienza ai clienti Migliore rispetto alla competizione Mentre i prodotti che devi dare Sono quelli super competitivi Per cui non hai spazio Quindi se sono super competitivi Non hai spazio per arrivare in cima ai risultati Quindi cerca di evitare anche questi prodotti Trovato il prodotto I prodotti che puoi vendere Che è più facile a dirsi Che a farsi A dire la verità Perché si dovrebbe fare un video Esclusivamente su quello Devi fare le foto Le foto e i video Sono estremamente importanti Sia su Etsy Su Amazon Su Ebay Su Shopify O nel tuo store Di e-commerce in proprio Perché quando noi tutte le persone Compriamo online Le cose su cui ci basiamo Prima di comprare Sono foto Video E recensioni Ok Se sono fatte male Noi non ci convinciamo Semplicemente non compriamo Quindi cerca di evitare sempre le foto Con lo sfondo bianco Le solite classiche foto brutte Noiose con lo sfondo bianco E metti foto Fai foto Fatte bene Se tu vedi un quadro Metti il quadro attaccato al muro E fai una foto Con il quadro Attaccato al muro Lo stesso per le collane Per i gioielli Arredo casa Fai le foto Si chiamano foto lifestyle Ovvero foto Fatte nella vita reale Non con lo sfondo bianco Non fatte foto così noiose Nella vita reale In modo tale che le persone Possano farsi un'idea Di com'è il prodotto Nella vita reale L'ideale sarebbe fare un 5-6 foto Con le specifiche Appunto quanto è grande Quanto è piccolo Per far capire appunto Tutte queste specifiche tecniche Un video Almeno sarebbe l'ideale Un video molto semplice Anche di 10-15-20 secondi In cui fai vedere il prodotto com'è Se hai il tempo La voglia di fare da solo Se no puoi fare Tipo software online Cioè Place it per esempio Spunterà qualcosa qui In pratica Se tu Ti faccio un esempio Puoi fare i mockup Oppure dei vari template Quali sono i mockup Se tu hai Se tu vendi delle magliettine La cosa più scomoda Che puoi fare Assumere un fotografo Pagarlo Un sacco di soldi Prendi una modella Organizzare tutto E così via Al contrario Tipo vai su Place it L'ho fatto vedere anche In altri video Perché lo uso Vai su Place it Scegli il mockup E la magliettina Una foto già fatta E gli metti il tuo design E gli metti appunto Il tuo logo E il tuo design Sulla magliettina E hai fatto un mockup Semplicemente lo puoi scaricare Lo stesso lo puoi fare Con le cappellini Con i zaini Con i computer Cioè tipo un computer Gli metti al computer L'immagine che vuoi Per i prodotti digitali Questo C'è davvero Un'infinità di prodotti Di mockup Che puoi fare E ci sono anche Le template E un'idea Che poi magari C'è un template Dalle intro Tu su Etsy Puoi vendere questi template Quindi li puoi modificare Come vuoi Li fai tipo Template intro Personalizzate Come vuoi tu Io personalmente L'ho fatto delle altre volte Lo uso Place it Insieme a Canva Sono le due cose Che uso di più Per il design Costa 14 dollari 95 Che sarebbe 12 euro e 50 Superci Quindi nulla Per le cose che puoi fare E se mi ricordo Perché forse lo posso fare Ti lascio anche un link In descrizione affiliato Con un codice sconto Così magari risparmi il primo mese E ti ringrazio Io ricevo la commissione Però non la paghi Tu la pagano quelli di place it Quindi risparmi i puristi i soldi Il terzo step E anche quello più facile Ovvero creare lo store Che si chiama store E listare il prodotto Ci sono 5 passaggi Una serie di passaggi Che devi fare Vai su Etsy Metti Crea il tuo store Lista il tuo prodotto E lo listi Ora ti faccio vedere Quanto costa Tutte le mie transazioni Le fisse e così via E' molto semplice Devi semplicemente Seguire i passaggi Non ci vuoi un corso Per fare queste cose E' estremamente semplice Devi imparare anche A farle tu da solo E una cosa molto importante Quando ti dice Devi cercare di compilare Tutti i vari Tutti i vari Le varie caselle Se ti dice Puoi scrivere al massimo 2000 caratteri Nell'escrizione del prodotto Scrivi 2000 caratteri Perché appunto Più cose ci sono Più il tuo store E' più professionale Più le persone possono comprare Se ti dice Che al massimo Puoi mettere 10 foto Metti 10 dannate foto Perché appunto Più cose ci sono Più è completo Più è ricco Il tuo listino Più le persone E' probabile che comprano Quindi cerca di compilare Più cose possibile Metti un logo Metti il sito web Metti la copertina Metti tutto quello che puoi Arricchisci appunto Il tuo listino Il tuo store Fai le cose per bene E ti assicuro che appunto Il tuo store diventerà Molto più bello E semplicemente Prendi spunto anche Da altri store Da altre listine Su Etsy stesso Cerca un prodotto Guarda il primo prodotto Che ti spunta Che sarebbe il migliore E cerca di copiarlo Vedere quello che hanno fatto loro Ok? Prendere spunto Da chi è più bravo di te Semplicemente Una cosa molto importante Che penso di spuntare Anche uno screen qua sopra Mettere un prodotto su Etsy Costa 20 centesimi Di dollari al mese Quindi nulla In pratica Per mettere un prodotto Non è un costo Comunque eccessivo 20 centesimi sono Nemmeno un caffettino E poi ogni volta Che tu fai un pagamento Ci sono le commissioni Quali commissioni? Il 5% Se lo prendono loro Subito Perché appunto E' quello di Etsy E poi c'è il 3% Più 25 centesimi Per i pagamenti I gateway di pagamento Che sarebbe tipo come L'equivente di Stripe E Paypal In pratica si prendono Supergiù L'8% Del totale di vendita E questo è molto importante A ricordare Perché devi farti Un pochettino di calcoli Tra costo prodotto Costo di appunto Costo delle commissioni E costo di promozione Devi farti un pochettino Di calcoli Per come Devi prezzare Il tuo prodotto Quarto step Ottimizza la SEO Questo già l'ho spiegato Comunque Cos'è la SEO In pratica La SEO E' la battaglia Di arrivare Tra i primi risultati Cioè più in alto Tu sei Tra i risultati Più probabilità E più chance Di prendere un cliente Di convertire una persona In cliente ovviamente La cosa migliore Che puoi fare Come vi ho detto E' fare le cose bene Quindi se tu hai 10 foto Metti queste 10 foto Metti un video Fai le cose per bene Devi essere migliore rispetto agli altri L'iscrizione la fai tutta Bella Sistemata Metti appunto La taglia Quanto è grande Quanto è grande Quanto ci vuole per spedire il pacco Tutte queste cose Molto tecniche Aiutano appunto Di arricchire il tuo listino E semplicemente Ripeto La cosa migliore che puoi fare E prendere spunto agli altri Quindi vedi il migliore Quello che fa Questo Il migliore fa questo Perfetto Tu crea qualcosa di ancora meglio Quindi cerca di superare il migliore E ti assicuro che appunto Farai qualcosa rispetto Più migliore Rispetto agli altri Tutto qua Se hai una parola molto spesso Tipo segreti Caracchiude segreti In realtà non è così Tu guardi cosa fa il migliore Quello che è in prima posizione E cerchi di fare qualcosa meglio Rispetto a lui Tutto qua Quinto step Che è anche quello più difficile Promuovere i prodotti Quindi non aspettarti Che tu metti un listino E arrivano i clienti Così di punto in bianco Devi dare il boost iniziale Ci sono diversi modi Per promuoverlo Puoi promuovere un prodotto Dentro Etsy Che è la cosa ideale da fare Cioè tu lo promuovi dentro Etsy Fai pubblicità dentro Etsy Un prodotto sponsorizzato Molto spesso O ti costa troppo Questa sponsorizzazione Oppure non riesce Perché c'è già qualcuno Che lo fa Gli spazi sono limitati Quello che puoi fare In questo caso Appunto Quando non la puoi fare È promuoverlo fuori Etsy Fai pubblicità su Facebook Su Instagram Su Pinterest Su dove vuoi tu Fai pubblicità E le persone Cliccano Arrivano direttamente Sulla landing page Di Etsy Sulla tua agenda di Etsy E magari comprono direttamente lì Perché appunto Vedono che Etsy Si fidano E comprono direttamente là Questo appunto Perché ti serve il boost iniziale Tu hai Non hai recensione Inizialmente Quindi se tu compri Le persone Tu hai Dei clienti Questi clienti Lasciano la recensione E poco a poco Più recensioni hai Più il tuo listino sale Di Appunto Di Come si dice Di risultati Affinché non arrivi Tra le prime posizioni O anche prima Appunto Tu hai vendite organiche Che arrivano ogni mese Quindi in teoria È molto semplice L'unica cosa che ti ricordo È fare le cose per bene Non lasciare nulla al caso Perché se fai le cose a caso Non succede nulla L'esecuzione è essenziale In questi casi E appunto Assicuri di fare le foto bene I video fatti bene L'escrizione fatta bene Il copy fatta bene E così via Ti assicuro che almeno Un minimo di vendite Le puoi fare Anche perché Etsy È una buonissima piattaforma Per appunto Far gire la valanga E magari prendere i primi soldi E poi prendere e investire In qualcosa di più grande Come appunto Nel lanciare il tuo store di e-commerce E metterti in proprio Quindi se hai domande E dubbi Problemi Puoi entrare nel mio gruppo Facebook o Telegram Così domande direttamente là Oppure metti un commento Direttamente qui sotto Lascia un mi piace Iscriviti E noi ci vediamo al prossimo video Bye bye Bye